Io non vi posso trattenere qui adesso perché mi aspettano superi, però organizziamo un infontro e io so di più insieme. Tre pelli li ho mandato, non mi ha risposto nessuno. Lascia per te le polemiche. No, no, non so polemiche. Io so dove andare, però tu sai che abbiamo fatto il consiglio comune all'aperto. No, non lo voleva lei il consiglio comune all'aperto, ha detto dichiaratamente io se fosse per me quel consiglio non lo voglio, l'ha detto lei, non l'ho detto io. No, no, io sono per il confronto, quando vuole, dove vuole, però con i cittadini. Benissimo, fissiamolo fin da ora. Allora facciamo una cosa, io telefono perché il numero ce l'ha della signora e fissiamo una data a Borboni, a Cade, a Steffè, dove vuole. Io perché è più comodo che la cittadinanza. Oggi ve lo volevo dire, oggi posso andare. Io pensavo che il gesto avviso, lo dirò forte a botta, lo fammi sentire. Quindi noi siamo, bene, non la prendete come un atto di... No, 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 in altre occasioni che te sentiamo. Ma ti hai risposto che sono segretari da segreti commerciali e industriali, io non li posso avere. Ho dato quello che c'è un segretario. No, non ci avete dato niente, no quello che potete, ovvero niente. Il progetto che abbiamo. Il progetto preliminare. Quando c'ero ieri, alla consulta di Marte B, perché non si è presentato nessuno? Quello che noi abbiamo, te l'abbiamo dato. No, non ci avete dato niente. Ma se lo faccio a dire dai componenti della consulta, che lei ha clamato come l'ennesima, diciamo... No, no, non ci faccio sapere come possiamo incontrarla. Se commettiamo una cosa illegale, c'è da un certo, eh? No, non siamo qui per fare le cose illegale. Noi siamo per il confronto, l'ho strillato anche in televisione. Lei ha detto che... Ma ce n'è stato tanto. C'era per me, manco il Consiglio Comunale Aperto per le squadre. Perdoni, però. C'è stato il Consiglio Comunale Aperto? Sì, è voluto la minoranza. Ma quello che ti farei, ma c'è stato? Certo, c'è stato. No, non è che è andato via. Sono stato qui. Assolutamente. Le commissioni sono state, sì. La consulta c'è stata. Non basta. No, 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 no. Non c'è stata, no. Non c'è stata, perché ce l'ha desertata. A presto in giro me, di tutti i cittadini e i condonenti della Consiglio. Adesso, 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 l'abbiamo a parlare con il Consiglio Comunale Aperto per il Consiglio Comunale. C'è stato qui, non lo so, è stato a Roma da amministratore del Gano dell'Annes. L'ultimo che mi ha telefonato. L'ultimo che mi ha telefonato. Cioè, voglio dire che se ti arriviate proprio tu. Ma te lo posso camminare? Ecco. La strada era sbagliata. La strada così, era sbagliata nel 2004 e è sbagliata adesso. Perché ti sfuggi la piena di fuori. Non ti sfuggi. Non ti sfuggi. Ti sfuggi anche noi. Facendo una strada... Oggi parlavamo di piano campagna. Ma piano campagna è una strada C1 e circa me.